Aldo, il giorno? Ma dove sono? Che giorno è? 3 febbraio 2019. Oggi metà nuova. Sono arrivato a Peschiera, lago di Garda. Che bello! Ecco qua che mi trovo al lago di Garda. Non c'è la neve. Temperatura 8-10 gradi. Un clima mite eccezionale. Ma Aldo, sei un viandante, sei un girovago che sceglie sempre luoghi belli, nuovi, dove la tua veduta visiva ha un'opportunità di guardare il mondo oltre la realtà, di vedere ciò che è bello, di intusiasmare gli spettatori di YouTube. Sono a Peschiera, lago di Garda, provincia di Brescia. E ora rimango qua un'oretta e due, poi l'appuntamento con un mio amico ad Esenzano del Garda, dove lui stesso mi aspetta le 5 alla stazione e mi ospita nella sua villa. L'ho conosciuto anni fa, è un psicologo dell'ospedale. Ha entusiasmato il mio senso youtubistico, diciamo una parola anche sbagliata. Però è piaciuto il mio senso di fare i video, di svolgere le attività in questo senso parolistico di YouTube. Aldo, Aldo.